Tommaso Carbonelli non contentissimo, lo possiamo dire, non solo per la prestazione dell'Aquila ma anche perché stavamo leggendo i risultati di tutto il girone, la classifica ora si fa un po' più complicata. Ciao a tutti innanzitutto, sì il micchiere è mezzo pieno perché alla fine la prestazione c'è stata, siamo stati bravi, era un campo difficile contro una squadra difficile, ho detto il campo era molto complicato perché la palla non girava bene, per il nostro gioco è stato complicato, se alla fine facciamo un gol la portiamo a casa come stiamo vedendo alla fine anche Chiede e Lavezano l'hanno spuntato all'ultimo. Ascolta Carbonelli, il mister ha evidenziato la buona prova della fase difensiva e della fase centrale mentre lì davanti sono mancati soprattutto i valori tecnici di questa squadra, stoppare il pallone per mettere alla linea mediana di salire e di darvi l'aiuto giusto e poi conclusioni che sono arrivate bene o male in modo sporadico. Sì siamo stati bravi dietro, alla fine veniamo da tre partite e un gol preso e ho detto c'è mancata magari la giocata finale però come ho detto il campo non ha aiutato soprattutto per il gioco che vogliamo fare noi che è un gioco valla a terra, è un campaccio che non ci ha permesso di spuntarla alla fine. Domenica c'è il derby quindi risultato importante per due motivi, il primo appunto perché è un derby sentito, è una gara sentita e il secondo perché non si può perdere ulteriore terreno. No dobbiamo continuare su questa striscia che è una striscia positiva e da martedì già ci metteremo al lavoro per preparare il derby che è una partita complicata e comunque sentita sia dall'Aquila che da noi.